Andiamo alla scoperta di BMW insieme a Motorrad, la rubrica dedicata al mondo dell'elica. Il 2010 è l'anno dei festeggiamenti per il marchio BMW, che non solo annuncia la versione trentesimo anniversario della mitica GS, ma si appresta a festeggiare il decimo anno di vita del BMW Motorrad Days, il grande raduno annuale che si terrà anche quest'anno a Garmisch Partenkirchen, sulle Alpi, al confine tra Austria e Germania. Continua il nostro viaggio alla scoperta del mondo S1000RR, questa volta si parla di tecnica in compagnia di Mattia Dodi, coordinatore service BMW Motorrad Italia, che ci mostra il cuore della superbike tedesca. Voglia di vacanza? Partiamo alla scoperta della costa orientale della Sardegna, una toccata e fuga in 400 chilometri di turismo, con tanto fuoristrada in compagnia delle 3GS 800, 1200 e Adventure. A chiusura di puntata, dedicata prevalentemente al turismo, arriva il test della Grand Tourer di famiglia, la K1003 GT, motore generoso, comfort a 5 stelle, garanzia di ottimo viaggio.